Ma cosa ci faccio a Milano con questo caldo a luglio, chiamato dall'Assessorato della Cultura a risolvere i problemi dell'arte contemporanea? Questo è qualcosa di... È una Ligisatsu della street art. Buona fortuna. Grazie anche a te. Se poi non ce la fai dai pazienza, ci vediamo dal di là. Portare dentro questa città una qualità, una accessibilità, una fruibilità e anche un'economicità della cultura. Cultura contemporanea. Oggi l'arte non è più soltanto la scultura o il quadro. L'arte sono tantissimi linguaggi che si incrociano, si intrecciano, si scontrano. Si incontrano. No. 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 No.